La marineria pescarese potrebbe presto mettere in atto nuove proteste come il blocco dell'asse attrezzato per il mancato dragaggio del porto. Nonostante gli impegni e gli annunci del sottosegretario alle infrastrutture e guide in prote, infatti gli operatori portuali ad oggi non conoscono la data di avvio dei lavori e non hanno certezza circa gli aiuti legati al fermo pesca. Per questi motivi domattina è stato organizzato un incontro nella sede dell'Associazione Armatori con l'obiettivo di fare il punto della situazione. Sempre domani l'assessore regionale alla pesca Mauro Febbo che oggi ha incontrato la marineria contatterà il provveditore alle opere pubbliche Donato Carlea per avere certezza circa le date. Venerdì inoltre si svolgerà un incontro con le istituzioni al termine del quale se non arriveranno garanzie gli operatori daranno il via alla protesta. Vogliamo sapere se la marineria potrà beneficiare dei 3 milioni di euro previsti nel decreto sviluppo, ha affermato Mimmo Grosso in rappresentanza degli armatori e quando potremo tornare in mare. Non si sa ancora chi dovrà pagare il fermo di gennaio, febbraio, marzo e aprile. La data di inizio dei lavori che sarebbero dovuti partire domani è stata posticipata tra il 22 e il 27 di aprile ma neppure in questo caso si hanno certezze. Al termine dell'incontro di venerdì se non ci saranno garanzie serie annunciato Grosso si valuteranno nuove forme eclatanti di protesta. La preoccupazione è arrivata anche da parte dell'assessore alle politiche agricole e pesca Mauro Febbo. Sono seriamente e fortemente preoccupato. L'attività di pesca oggi azzerata e ridotta a livelli economicamente insostenibili e se le imbarcazioni non torneranno in mare entro il 30 di aprile si correrà il serio rischio di imbattersi in un'infrazione da parte della Commissione europea e non si vedranno riconosciuti i prolungamenti straordinari del fermo pesca.